No, 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 Chiara o Bianca Maria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Allora quando la metti al letto, gli fai il segno alla croce. Anche l'altro padrino, il musco ordine, dice facciamo il segno, gli devi dare da mangiare la poppa. Fai il segno della croce. Ricordi. Che cosa fai il segno della croce di mangiare? Mi sa che te mangi ma... Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Vedete, abbiamo ritegno persino il pieno della Maria. Io pensavo di sentire un cuore. Diciamo insieme. Viena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, venga per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gesù di della persona. Ma quando continuano le loro di pastorale, ovviamente non coincide con il fatto il cuore il cuore il fuo sociale, come da una morte. Però il pastorale termina, gli hanno per l'arrodio di tutte le due. Ragazzi che non vive, non è come il vostro seno Gesù. Gli hanno per l'arrodio. Ragazzi che non si vede, non si vede, non si vede, mapra la nostra morte. Ma si vede, sta da un corso giusto. Dice io sono pietra viva inserita nel corpo vivo di Cristo che è la Chiesa, hai capito? E beh, magari adesso non può ancora dirlo, per lei diciamo, mi stringo a te signore pietra viva, come in un'invocazione, no? Perché io adesso reciterò il Salmo, mi stringo a te signore pietra viva, oh Dio, tu sei il mio Dio all'aurora di Cielo, perché assiede la morte. E se un giusto viene in mente ai peccatori, i peccatori più o meno fanno fuori, non fanno fuori. Allora, c'è appunto Gesù è stato mandato, è stato mandato a tutti, sono il terzo giorno, noi alleggiamo nella Chiesa Cristo risorto. Quello che stiamo facendo adesso per chiara è un atto d'obbedienza a Cristo risorto, che ha detto agli apposti che è andato a tutti. Tanto non si impegna più di tanto, no? Invece no? E mo? E mo? E mo? Le stagne? Non mi gustava dire, però. E beh, diciamo in modo corretto, punito, ne? Tanto è che mangia perché viene in mangiato. Quando mangia? Tanto finto. E dai là, qui? Eh va bene. Oh, allora Gesù è risorto e ci dice di far questo. Nella sua coscienza risponda. Spegnilo. Riccardo, spegnilo. Come rispondiamo noi a questo dono di Dio? Eh, rispondiamone così non lo dire. Dimentichi di Dio. Senza la pratica religiosa. Come è buono? Spegnilo, Riccardo. E c'è una chiave per spegnere come è. Telefono speciale, mazza. Guarda. Chiarina. Un po' di musica, eh? Un po' di musica. Questi assurdi, assurdi suoni di Dio. Guardati. Grazie. Buona conversazione, eh? Buona conversazione. Assolutamente la fede in tutte le circostanze della vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Prendi la partecipe del mistero di morte e risurrezione del tuo figlio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Con la parola e le sempre e i genitori, dei padrini, cresca membro viva della Chiesa. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Raviva in noi più presenti la grazia del battesimo. Noi ti preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santo Pietro e Paolo, pregate per noi. Santa Chiara, prega per noi. Sant'Antonio, prega per noi. Santa Tiziana, prega per noi. Santa Alessandro, prega per noi. Sant'Alessio, due grandi Santi. Prega per noi. San Pio, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. Santa Armando, prega per noi. Abbiamo ricordato i nonni, non, non è qualcuno che non c'è più. Santi tutti di Dio, pregate per noi. Adesso, sul petto della bimba, abbassando un po' sul pettorino qui, faccio un insacrato. Quindi questa bambina viene consacrata a Dio. Questa è proprietà di Dio, riserva di Dio, questa bambina. Ti fortifico con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli, dei secoli. Amo. Amo. Così sia. Così sia.